Il Presidente della Regione, Cristian Solinas, in attesa della Costituzione della nuova Giunta regionale e degli atti di indirizzo che questo intende deliberare nei confronti degli enti e delle agenzie del sistema regione, ha invitato gli organi di governo ad astenersi dall'adottare atti che esulino dall'ordinaria amministrazione. Il provvedimento riguarda tutte le agenzie regionali, dall'Aspala a Sardegna Ricerche e passando per Agris, Area, Argea, Forestas. Lo stesso provvedimento è stato notificato dai direttori generali dell'ATS, delle aziende ospedaliere universitarie di Cagliari e Sassari, della Reus, del Bruzzo e dell'Istituto Zooprofilattico. La motivazione del provvedimento, se legge una nota, va ricercata nella volontà di porre un freno ad un'attività di straordinaria portata in termini di nomine, concorsi e gare che si è intensificata nell'amore dell'insediamento della nuova Giunta regionale. Il Presidente Solinas ha sottolineato che queste iniziative rischiano di pregiudicare il percorso di riforma complessiva del sistema sanitario al quale la nuova Giunta intende procedere in tempi brevi, in ottemperanza dal programma col quale ha vinto le elezioni e che va al primo punto la sanità. Inoltre le aziende sanitarie, sottolinea Solinas, starebbero dando attuazione alla ridefinizione della rete ospedaliera che non ha neppure perfezionato il proprio iter normativo a livello statale. Pertanto, scrive il Presidente, in vista dei provvedimenti legislativi e amministrativi che avranno adottati, gli enti regionali devono strettamente attenersi nell'esercizio dell'azione amministrativa esclusivamente all'attività gestionale e ordinaria. Infine, uno specifico atto di indirizzo è stato impartito all'ATS sulla costituzione della Scarsas Domus al fine di consentire un'opportuna e necessaria valutazione nel quadro unitario della riforma del servizio sanitario regionale. Un provvedimento reso ancora più urgente, conclude la nota, di fronte all'avvio di procedure concorsuali straordinarie da parte della neocostituita società in-house, che si accingerebbe a contrattualizzare, senza una chiara e condivisa strategia complessiva, centinaia di nuove figure professionali, il cui impatto amministrativo e contabile deve essere valutato con grande attenzione. Grazie.